Grazie Presidente, io vorrei fare alcune precisazioni rispetto a questa mozione in quanto secondo me non si possono citare le note trasmissioni televisive che hanno riguardato il problema sull'appalto delle utenze non domestiche senza ricordare che Roma Capitale e Ama in questo caso erano parte lesa rispetto a quelle denunce che erano dei singoli casi, singoli per carità, non si vuole criminalizzare nessuno, ci mancherebbe altro, però erano dei singoli casi di comportamenti non corretti del capitolato dell'appalto, su quello sta indagando la magistratura per cui facciamo andare avanti ovviamente il lavoro. Volevo dire al collega che ha parlato che ha molti servizi, fa 16.000 trasporti in giorno di studenti, in realtà non è così, probabilmente se deve essere confuso con la società Tundo, il multiservizi fa il trasporto solo dei alunni disabili che in realtà sono poco più di 600, adesso non ricordo esattamente il numero per cui non possono svolgere questo tipo di servizio così come è stato dichiarato, ma deve essere stato un errore. Noi riteniamo che questa mozione in realtà non dia nessun valore aggiunto rispetto al problema in generale o rispetto a quello che si sta realmente facendo. Pertanto, tra l'altro, è di recente la notizia di un atto dell'Aggiunta che ha avviato la procedura per un piano assunzionale in Ama, dove ci saranno centinaia di persone assunte, è una prima fase. C'è stato tutto un lavoro lunghissimo dietro questo atto che ha portato ad un piano assunzionale in Ama, riteniamo che questo sia un inizio e che si debba continuare su questa strada, ma riteniamo allo stesso tempo che la mozione oggettivamente non dà nessun valore aggiunto rispetto al problema generale, pertanto anche su questa mozione il Movimento 5 Stelle si asterrà. Grazie.